Rassegna stampa di oggi, mercoledì 26 luglio 2017, sul canale 17 di Fano TV c'è l'informazione locale in diretta tutte le mattine alle 7.30. Cominciamo dal santo del giorno, oggi festeggiamo i genitori di Maria e i genitori della Madonna, i santi Anne e Gioacchino, il sole è sorto alle 5.50, tramonterà alle 20.39, oggi avremo un cielo da poco a irregolarmente nuvoloso, nelle ore più calde della giornata non si escludono rovesci sparsi più probabili nel settore centro-meridionale, poi però i fenomeni si andranno ad esaurire nel corso del pomeriggio. Domani giovedì 27 ancora nuvolosità variabile con temperature in aumento, venerdì 28 ancora cielo così così con nuvole che faranno compagnia al sole, i venti saranno di brezza tesa, le temperature in aumento, il prossimo fine settimana sarà comunque un fine settimana di bel tempo, tutto da dedicare al mare. Cominciamo a vedere i giornali, cominciamo dal resto del Carlino, a centro pagina, la fotonotizia, spericolati su due ruote, sempre più incidenti anche gravi, in bicicletta, feriti e multe e se non c'è l'assicurazione sono guai. La Disney invece è lo sponsor del mondiale di ginnastica ritmica, sopra il calvario di banca Marche, filiali chiuse o ridimensionate. È un piano, quello dell'UBI, che prevede di eliminare 35 figliali in regione e 8 in provincia. La pagina di Fano invece del Carlino, a 14, superstrada chiuse, la città si intasa, poi la buona notizia stasera c'è il via libera, disagi in città, protestano anche i camionisti, le pattuglie della polizia schierate, Giuliani dice perché questi lavori li svolgono sempre d'estate, mentre il sindaco Seri risponde si fanno quando serve. E poi l'intervista ad un mondolfese, Filippo Sorcinelli, 42 anni, che ha fondato un laboratorio, atelier di veste sacre nel 2001 e che adesso è diventato il sarto dei papi, infatti ha vestito sia Ratzinger che Bergoglio. Questa è la pagina del resto del Carlino, mentre su Banca Marche dicevamo chiude tre figliali, Pantano, Zonamare e Celletta, poi Fano, Montecchio, Apecchio e anche le altre. Addio a Luciano Pagnoni, conduttore tv di altri tempi, il suo slogan, il suo motto era vogliamoci bene almeno noi, così chiudeva i suoi servizi. Un personaggio, una cara persona davvero da ricordare, lascia la moglie Caterina e i figli Pietro e Roberto, il funerale e la cerimonia religiosa domani alle 10.30 a Sant'Agostino. E di questo lutto parla anche il Corriere Adriatico, con un ricordo di Luciano Pagnoni, radio e televisioni libere hanno perso un pioniere. I funerali oggi a Sant'Agostino, questa mattina alle 10.30 nella Chiesa, in corso 11 settembre, sicuramente non mancheranno giornalisti ed addetti ai lavori che lo hanno conosciuto e anche quelli che non l'hanno conosciuto di persona. E come dicevo, rimasta celebre, rimasta nel ricordo di molti, la frase che era solito usare a chiusura dei suoi servizi giornalistici, ovvero vogliamoci bene almeno noi, un tormentone di successo, ma che oggi torna davvero di attualità. Scomparso Sergio Gambini invece fu tra i fondatori della CNA, con lui si è formata una generazione di imprenditori, era un artigiano con la maiuscola, se ne è andato ieri, classe 1982, era il nonno di Lucia Annibali. Fabbro, nato a Pontevecchio di Colbordolo, fu lui nel 1947 insieme ad un manipolo di colleghi a fondare l'allora Unione Provinciale degli Artigiani. Anche il sindaco di Pesaro, Ricci, si è unito al Cordoglio, i funerali oggi alle ore 11 nella chiesa dei Cappuccini a Pesaro. Una città-cantiere a Urbania, 3 milioni di lavori pubblici, interventi sugli edifici storici, scavi per la fibra ottica e un maxipiano di asfaltature. Da Urbino invece c'è la Grandine, anche se poca rispetto a quella che abbiamo visto nel sud delle Marche, ancora Grandine, tocca questa volta Castel Cavallino, dopo Fermignano la frazione Urbinate, imbiancata dai chicchi come fosse neve in inverno. Inverno, inferno invece, stalking, chiesto un anno per il venditore di kebab. L'uomo è accusato anche di lesioni contro la moglie. Siamo Urbino, la donna raccontato di 12 anni di minacce, percosse, insulti ed umiliazione. Stiamo parlando di un 37enne di origine turche, titolare di alcuni negozi di kebab, che è accusato di stalking e lesioni contro la moglie, una trentenne originaria della Campania, ma residente nell'Urbinate ormai da diversi anni. Il Corriere Adriatico apre con il problema del nuovo cantiere per gli yacht che dovrebbe sorgere, dovrà sorgere al porto di Pesaro. Nessun ecomostro al porto. Al fuoco di polemiche dell'opposizione nel Consiglio Comunale, sul capannone alto 28 metri previsto nel piano dell'area portuale per la costruzione degli yacht, risponde il direttore del cantiere navale Rossini, Alfonso Postorino. Mentre a centropagina vedete la Grandine, che questa volta da Cartolina, anche se ha fatto dei disastri nei campi, a Grotta Mare, nel sud delle Marche, imbiancata da chicchie enormi, l'esperto dice dovremmo farci l'abitudine. Improvvisa ondata di maltempo nel sud della regione. Guardiamo allora la pagina interna con le fotografie, sembra davvero inverno, invece siamo nel pieno dell'estate, in riva al mare, guardate che immagini, dopo la siccità arriva la Grandine, spiagge imbiancate come d'inverno, a San Benedetto e Grotta Mare, Violetta scarica con chicchi di ghiaccio grandi come Nespole. La pagina di Fano invece del Corriere, casello chiuso, la città va in tilt, ingresso vietato in entrata nella 14, primo tratto della Fano Grosseto Off Limits, stasera si ritorna alla normalità, il traffico pesante diretto a Marotta ha intasato per ore la già fragile viabilità cittadina, rafforzati i vigili in strada. E Cristian Fanesi, l'assessore dei lavori pubblici, dice non c'era altro modo per consentire la realizzazione di quest'opera. E poi ancora, sempre da Fano dal Corriere Adriatico, basta fare casini o non vedrai più i tuoi figli. Paura per un'amministratrice di condominio. La denuncia ai carabinieri dopo la telefonata shock anonima e dice lei vivo un incubo, vi chiedo aiuto. L'avvertimento potrebbe essere ricollegato alla sua attività, ma non ci sono riferimenti diretti. Il numero del mittente che ha visto nel display questa donna era ovviamente nascosto, ma il messaggio era chiarissimo. Basta fare casini altrimenti non vedrai più i tuoi figli. Una telefonata improvvisa, una voce roca, l'accento dell'est e dunque l'inizio di un incubo. Il rave party ad Apecchio è finito, gli organizzatori sono stati convocati in caserma, ultime partenze ad Apecchio, ma i carabinieri hanno trattenuto diversi giovani. Tanti ragazzi hanno affollato il paese per rifocillarsi dopo tre giorni a passare a ballare tra virgolette. Chi sa come funzionano i rave party sa benissimo che non si tratta di balli, non lo so neanche di cosa si tratta. Comunque tre giorni in mezzo alla foresta, in mezzo a fare non si sa cosa. Ritrovata una targa falsa invece utilizzata dai ladri, persa da una moto a Fossombrone vicino ad una casa razziata dai ladri, quindi probabilmente era quella che hanno utilizzato i ladri in motocicletta per andare a fare questa razzia in una casa di Fossombrone. Poi grazie ai bandi sullo sport arrivano soldi dal CONI a Pesaro e Cartoceto, serviranno per la pista di via Respighi e poi invece a Cartoceto per realizzare due impianti, uno di pallavolo e l'altro di calcio A5. Mentre sempre sulla pagina di Pesaro e provincia si è spento Renzo Ovani, una vita dietro il bancone, il suo market Bartabacchi sempre aperto è un'istituzione all'incrocio di Borgo Santa Maria e questa è la fotografia, aveva 71 anni, storica anima del commercio pesarese ed era appunto il titolare del supermarket Bartabacchi Ovani. La morte l'ha accolto nella notte tra lunedì e martedì dopo essere appena stato dimesso dall'ospedale e questa è la notizia sempre sul Corriere Adriatico. Invece il Capannone continua a far discutere, nessuna sorpresa, l'altezza è necessaria, questi 28 metri sono necessari per realizzare gli yacht però a Pesaro si discute e bagarra su questo Capannone che potrebbe oscurare addirittura, vedendola da una certa prospettiva potrebbe oscurare addirittura la visuale del San Bartolo. Il Ministro non paga l'hotel, il caso finisce in Parlamento, non saldato il conto dei poliziotti di rinforzo a Pesaro la senatrice Camilla Fabri deposita una interrogazione in Parlamento. Poi è stata inaugurata invece sempre a Pesaro una bici, un'altra bicipolitana, un'altra linea della bicipolitana dal mare a Villa Fastigi e poi la dichiarazione dell'imprenditore Mauro Lancia, per lui illegale, Coli chiederà la revoca degli arresti domiciliari, lui dice non ho mai dato mazzette per dei favori negli appalti, tangenti per la ricostruzione dell'Aquila, post terremoto interrogato, nega tutto, l'imprenditore Lancia. Da Urbino invece la crisi idrica, Fabri l'attacco, l'emergenza è l'acquedotto, il consigliere di 5 Stelle, perdite altissime, rete da riparare per battere la siccità. Dalla Valle del Cesano invece le nomine sul sociale non risultano trasparenti, la minoranza attacca Sebastianelli sulla composizione della giunta. Polizia con lo spray al peperoncino, a Mondolfo, voto in consiglio, sale l'attesa, domani si decide per lo strumento di autodifesa che sarà messo in dotazione alla Polizia Municipale. Da Senigallia invece, assalto con spaccata, tutto in due minuti, la banda va in fuga con le slot machine, in frantumi la vetrata del bar Paola, i ladri hanno caricato il bottino su un furgone rubato. C'è stato invece sempre a Senigallia un'alba di sequestri sulla spiaggia, vedete hanno portato via carrelli e barche sotto chiave in azione vigili, guardia costiera e ufficio tecnico comunale. Il materiale era parcheggiato in un tratto vietato, ma ormai lo si sa, non si può lasciare nelle spiagge libere ombrelloni per il giorno dopo, non si può occupare abusivamente la spiaggia, quindi ogni giorno quando si arriva si pianta l'ombrellone, poi la sera si riporta via, non si può lasciare lì, altrimenti succede che la guardia costiera prende e porta via tutto. Chiuse per due giorni le sale operatorie, altri disagi all'ospedale di Senigallia, problemi con l'impianto di climatizzazione. E poi c'è la notizia che la città di Senigallia è bloccata, blindata per il Summer Jamboree, c'è la task force, i Rom sono stati cacciati, da oggi chiude il ponte Garibaldi, tutti i divieti alle auto e i maxi controlli. Il Summer Jamboree, che è quel festival di musica degli anni belli, gli anni che furono e che sarà in scena per tanti giorni ancora. 12 giorni mi pare che sia, un programma ricchissimo, niente asilo politico, un ragazzo si ferisce agli esi e poi cammina sanguinante tra la folla, il migrante aveva tirato un pugno ad una vetrata, paura in centro storico, in tasca aveva dell'ascis. A Falconara invece addio a Bianca Bedetti, guardate, ha inventato la ricetta del torrone. La pasticcera aveva 96 anni, il ricordo del sindaco, che dice lavorava 12 ore al giorno. Tra l'altro il caffè Bedetti purtroppo, che è uno storico caffè che sta vicino alla stazione, davanti alla stazione ferroviaria di Falconara, un'istituzione nata nel 1906 appunto per volere del padre di Bianca, che però purtroppo è chiuso ormai da... La cerimonia funebre della famosa pasticcera si svolgeranno oggi alle 10.30 nella chiesa di Santissimo Rosario. Chiudo la rassegna stampa con un avviso che vi ricordo che domani, giovedì 27 luglio, nella collina del Rosario che si trova nella strada per Monte Giove, alle ore 20.30 ci sarà il Santo Rosario. Poi un incontro con questa scrittrice che qualcuno conoscerà sicuramente, si chiama Annalisa Colzi e domani intorno alle 21 parlerà di come il maligno, come Satana corrompe la società. Un appuntamento interessante se non altro nella collina del Rosario appunto domani sera a partire dalle 20.30. Io mi fermo qui, grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa. Vi ricordo che al 338 49 68 250 potete inviarci le vostre segnalazioni anche con WhatsApp. Noi ci vediamo stasera invece per il telegiornale. Grazie, arrivederci.